Inter, Milan, Roma e Juventus contro il presidente della Lega, posizioni non condivise Terremoto in Serie A. Inter, Milan, Roma e Juventus sono andate all'attacco del presidente della Lega Casini perché non condividono il testo delle riforme che presenterà al governo. Le quattro sopracitate volevano il ritorno del campionato a 18 squadre, in considerazione dell'aumento degli impegni europei a partire della prossima stagione. Ecco la lettera di Inter, Milan, Roma e Juventus contro il numero uno della Lega Serie A, e greggio presidente, a seguito dell'incontro informale di ieri, desideriamo rappresentarti quanto segue. Nel corso della riunione si è il più occasioni fatto riferimento a posizioni da te rappresentate in sedi istituzionali fondate sul documento approvato dall'Assemblea LNP in data 14 febbraio. Le nostre società non hanno approvato quel documento, né dunque i suoi contenuti. Ti preghiamo quindi, a partire dall'incontro di domani con il ministro dello sport così come in ogni altro contesto istituzionale in cui rappresenterai le posizioni della Lega Nazionale Professionisti Serie A, fondate su quel documento, dichiarire in anticipo che si tratta di posizioni non condivise e non approvate dai nostri club.